Si aggravano le condizioni in merito al paziente che lunedì sera si è lanciato dal quinto piano dell'ospedale Sant'Elia. L'uomo a quanto pare era in preda ad agitazione per via della sua patologia, ma nonostante i mezzi di contenimento adottati proprio in ragione del suo stato, sarebbe riuscito a liberarsi lanciandosi dalla finestra della sua stanza. In un primo tempo, vigile e cosciente, le sue condizioni si sono aggravate nella notte. L'uomo, dopo l'accaduto, è stato sottoposto ad un delicato intervento per via delle fratture riportate ed è ricoverato nel reparto di rianimazione.